Musica Buongiorno e benvenuti al nostro Tg del mattino. Lutto cittadino oggi a Campobasso in occasione del funerale del piccolo Alessandro Mignogna, morto qualche giorno fa nell'incendio della sua abitazione. La cerimonia funebre è prevista alle 10.30 nella chiesa di San Giovanni Battista. Il presidente regionale dell'Associazione Donatori di Midollo Osseo e dell'Avis di Campobasso, Eugenio Astore, con un videomessaggio ha voluto ringraziare i volontari e ha rinnovato l'appello a donare. Sentiamo. Donare il sangue e il midollo osseo sono gesti di profonda umanità perché possono salvare le vite e tante ne hanno salvate. Sono tanti volontari anche in Molise. Il presidente dell'Avis di Campobasso e dell'Admo regionale, Eugenio Astore, ha voluto ringraziarli per quanto fatto e per quanto ancora faranno. Far del bene, come sapete, non costa nulla, ma può salvare una vita. Quindi vi ringrazio di cuore, a nome mio personale, e di entrambi i consigli direttivi, che sono sempre al mio fianco, per supportarmi e per fare in modo che le due associazioni possano continuare a crescere. Astore, inoltre, ha rinnovato l'invito a donare sangue e midollo osseo. Il dono più grande che possiamo dare nel periodo delle feste è la nostra attenzione e la nostra solidarietà e queste sono ancora più importanti per le persone malate. Potete rendere il periodo natalizio più luminoso, pianificando e prenotando una donazione di sangue o di plasma per l'Avis o la tipizzazione per attimo. Grazie, grazie a voi tutti e giungano i miei più cari ed affettuosi auguri per delle festività piene di gioia, serenità e salute. A Campobasso è tempo di eventi, ci sono le festività natalizie, non solo presepi, ma anche appuntamenti legati al divertimento notturno. Vediamo. Periodo di feste, gremito di eventi legati alla cultura natalizia, ma non solo. C'è spazio per il divertimento per i più giovani, amanti della discoteca e non solo. Alcuni appuntamenti sono diventati ormai un classico dell'agenda natalizia molisana. In prima fila, nella proposta natalizia e di fine anno, c'è il Blu Note di Campobasso che organizza per la notte di Natale il Funky Drum, un momento di musica a cui parteciperà anche il DJ Luca Trevisi. Anche produttore, dalla fine degli anni Ottanta, ha mosso i suoi primi passi come DJ resident nei locali notturni fra Bologna ed Imola ed è considerato un pioniere dei generi acid jazz e rare grooves. Il noto club alle porte di Campobasso non si ferma la tipica notte di Natale, ma allieterà la clientela con il gran cenone di San Silvestro. La maniera migliore per scambiarsi gli auguri per un felice 2024, anticipando con una lunga cena a cura dello chef prima di vivere la prima notte dell'anno all'insegna del divertimento con due aree distinte e dedicate. Tutto questo per la soddisfazione del responsabile Michele Stella che anche quest'anno non ha voluto risparmiare gli sforzi in un periodo sicuramente non semplice. Staff organizzativo corposo per le due serate di Natale e Capodanno, Forze Unite, per rendere un servizio ampio ai giovani del capoluogo e non solo, sarà anche organizzata una navetta gratuita dal centro città su prenotazione. E tutto termina qui nel nostro Tg del mattino, adesso la rassegna stampa. Con Pasquale Di Iorio in regia vediamo come titola il giornale del Molise.it. È stata eseguita l'autopsia sul piccolo Alessandro, oggi funerali nella chiesa di San Giovanni Battista a Campobasso. Carpinone in festa per i 103 anni di Ester Tamasi. A Trivento iniziati i lavori per il ripristino del ponte sul torrente Rivo. I Serni arrivano per Natale, i doni del comune. L'8-0 si parte a gennaio e il Comitato per il No chiede un incontro con il prefetto. Premio Antonio Di Lallo consegnati riconoscimenti ai quattro vincitori. La provincia di Campobasso impegna 600 mila euro per sistemare alcune strade che erano interessate da frane. Sicurezza e il bilancio del questore di Campobasso crescono i codici rossi e i DASPO sportivi. Poi dopo 79 anni il corpo del pilota statunitense Second, il secondo logotenente Fred Brower Junior, è tornato a casa. Poi morto a 13 anni in un tragico incidente. L'ultimo straziante saluto a Flavio. PNRR, nuovo step al comune di Campobasso per il progetto sui trasporti green. Poi ci sono tutte le altre notizie sul giornaledelmolise.it. Vediamo adesso come titola informamolise.com. Se a SPA ritiro pannolini e pannoloni, ecco che cosa cambia con il nuovo anno. Poi i sindacati tuonano, i lavoratori della GTM e ATM sono in attesa dello stipendio e poi c'è l'appello della Coldiretti Molise. E ci sono poi le altre notizie su informamolise.com. Vediamo adesso invece come titola News della Valle Alto Sangro con queste notizie. Isernia ha presentato il calendario della Polizia, ma ci sono poi dopo altre notizie. Ci sono delle premiazioni, poi Nativitas, interpretazioni del Natale nella collezione Giuliani al Museo Nazionale di Castello Pandone a Venafro, provincia di Campobasso, impegnati 600.000 euro di fondi per la sistemazione di alcune strade. Poi ci sono le altre notizie sulla News della Valle. Vediamo adesso come titola. Primo piano molise, il quotidiano del Molise. La Giunta trova le risorse per realizzare la torre Covid. Stanziati 2,4 milioni di euro che mancavano all'appello è approvato il cronoprogramma. La struttura ospiterà terapia intensiva e semi-intensiva con l'audo entro Natale 2025. Il costo ammonta a 7,8 milioni. Complessivamente, direzione della Salute Asrem parlano di opera strategica per il potenziamento del Cardarelli. Ad esca due ragazzine che finiscono in un video hard, 64enne condannato. L'uomo utilizzava false credenziali, sei anni di reclusione per pornografia minorile. Poi Pietracatella, crollo della chiesa, un'assoluzione, due anni e sei mesi agli altri imputati. Poi manifestazione, commercio, Will, Tux in piazza a Napoli, subito il contratto. Termoli, nuovo complesso residenziale a nord, no dell'opposizione. A rischio l'ultimo lembo verde di via Magellano. C'è poi il punto di Luca Colella, una riflessione sull'anno che sta per terminare. Poi altre notizie tra il 2021 e il 2022. Un anziano su tre ha rinunciato alle cure. Zampognari dal Molise in Vaticano, trentesimo concerto per il Papa. Ci sono poi le notizie di Sport, Campobasso, dunque Sport Calcio. Campobasso, mercato per l'attacco, spunta la pista che porta Mattia Rossetti. Natale Rossoblu, il patron, Matt Rezzetta, indirizza una missiva a tutto l'ambiente. Fuzzal di Serie B, trasferta Pontina per lo Sporting alla ricerca di un successo pieno. Vediamo adesso come titola il Corriere della Sera. Giorgetti scuote la maggioranza. Ero per approvare il MES, però non tirava aria. Lasciare, decido io, i rischi per l'Italia in Europa. Le reazioni dopo il no al fondo salva stati. La manovra incassa la fiducia al Senato. Super bonus extra costo di 20 miliardi. Poi Stati Uniti e Russia si astengono. L'ONU approva gli aiuti a Gaza. Fallito invece l'obiettivo tregua. Uccisa con otto coltellate, Vanessa. Allarmi, sottovalutazioni. Si muove il ministro nordio per l'ennesimo femminicidio. Poi il clima, caldo anomalo anche in montagna. 11 gradi a Courmayeur. Ma è Natale o primavera al nord toccati i 20 gradi. Vediamo adesso invece come titola la Repubblica. Un MES senza Italia dunque. Anche qui questa notizia. La crisi con l'Unione Europea. Bruxelles si valuta l'ipotesi di siglare un nuovo accordo tra i 19 paesi che hanno detto sia la riforma escludendo Roma. Giorgetti ammette io avrei dato l'ok ma non me ne vado. La critica del Fondo Monetario Internazionale senza quella garanzia l'Eurozona è meno stabile. Il sondaggio è il 52% degli elettori e favorevole alla ratifica del trattato. Ci sono poi diversi approfondimenti. 1992, i due boss al Costanzo Show, Graviano e Messina Denaro, preparano l'attentato in via Fauro. Teatro Parioli in due serate tra novembre e dicembre del 92. Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro. Poi geopolitica Putin-Iran Hamas, l'internazionale del peggio. Un approfondimento e ci sono poi tutte le altre notizie sulla Repubblica. Passiamo alla prima pagina di avvenire, il quotidiano dei Vescovi. Fame senza tregua, il titolo in evidenza. Il Papa invia in Terra Santa l'Elemosiniere, chiederà la pace da Betlemme. In Sudan si combatte a Jazeera, granaio del paese, anche qui emergenza alimentare. L'ONU aggazza mezzo milione di persone senza cibo, pesa il mancato accordo tra Israele e Hamas. Poi Campania, terra dei fuochi. All'ultima beffa i Pellini chiedono 222 milioni confiscati. Manovra fiducia dal Senato e Giorgetti s'arrende sul MES. Il titolare del Ministero dell'Economia e Finanze, cauto sul super bonus, dice, ci costa 4 miliardi e mezzo al mese. E poi il ritorno di fiamma, contagio e vaccini, riecco il Covid. Passiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano. PNRR giungla, d'appalto Corte dei Conti disarmata, esclusivo del Fatto Quotidiano. Ecco la riforma di Fratelli d'Italia, mani libere sulle gare. Controlli aboliti, saranno più difficili le verifiche dei giudici contabili. Niente più danno a era reale per i sindaci e nuovi sconti sulle sanzioni. Casta continua in casa Emiliano, Puglia e i consiglieri si alzano. I TFR ridanno i vitalizi agli ex condannati, salvati dall'indulto. Poi le altre notizie su il Fatto Quotidiano. Morti oltre il Vietnam albanese, ONU, sanzioni a Israele come alla Russia. Dal Fatto Quotidiano alla stampa di Torino, anche qui MES, Giorgetti contro il governo. Il titolare del Tesoro avrei votato a favore, dimissioni, decido io, tensioni tra PD e 5 Stelle. Approvata la manovra, tramontata quota 41, in pensione si va con la Fornero. Casa e lavoro cambiano le tasse. Le imprese del Nord scaricano Salvini, il racconto di Francesco Moscatelli. Poi Renzi, tassi a tutti e Marchette agli amici, scrive Federico Capurso. Baricco la mia nuova vita, lo scrittore si confessa tra malattia Torino, politica e TV. Adesso sono felice, dice. Dalla stampa passiamo alla prima pagina del manifesto. Solo un consiglio è il titolo in evidenza. Sei giorni di rinvi per approvare una risoluzione che non prevede cessate il fuoco e il topolino partorito dalla montagna ONU nel giorno, in cui le inchieste di CNN e New York Times accusano Israele di aver sganciato sulle zone sicure di Gaza bombe da 900 kg per 1600 volte. Avrei voluto il MES, dice il ministro. Giorgetti aveva interesse che fosse approvato, ma non era aria e non per motivi economici. Al Senato, entro il 29 alla Camera, ha approvata una manovra iniqua, scrive il manifesto. Vediamo adesso come titola il messaggero. Super bonus verso la sanatoria via le sanzioni per chi non riesce a terminare i lavori. Si studia un decreto di fine anno, manovra primo ok. Meloni, il 2024 sarà più difficile. Giorgetti, messi, io avrei detto sì. Vanessa perdonò un altro stalker, scatta all'ispezione la ragazza aggredita nel 2022. Querela, ritirata Nordio. Farò sulle denunce sottovalutate a Van Dye. Praga, lo studente killer, aveva già colpito. Papai neonata uccisi prima della strage. Era sospettato, ma la polizia cieca non lo fermò. Vediamo il Sole 24 ore come titola. Manovra la mappa delle novità. Legge di bilancio ok del Senato. Ora parola alla Camera per l'ultimo via libera senza modifiche. Dal cuneo ai contratti della pubblica amministrazione, dalla sanità alle pensioni, misure per 24 miliardi. BTP nel 2024, nuova corsa tra 340 e 360 miliardi di euro. Le previsioni, boom di emissioni di titoli nel 2023. 516 miliardi, il 21,6% più dell'anno prima. E poi ci sono altre notizie. Stima Bruegel, patto per l'Italia, ipotesi stretta da 12 miliardi all'anno. Diamo adesso, come titolo a libero, i cretini dell'apocalisse. Vedove del mess inconsolabili. Urla a sinistra dopo il no al salva stati. L'Italia è perduta, ma lo spread cala e la borsa sale. E Giorgetti spariglia. Io l'accordo con l'Europa, l'avrei ratificato. Libertà sotto attacco non solo il Natale, scrive Daniele Capezzone. Poi l'intesa dell'Unione Europea sfumata, l'eterno Prodi che sogna sempre un'Italia vassalla. Le voragini delle regioni rosse, buona amministrazione, addio, i bilanci piangono. E Ferragni e Fedez, rinchiusi in casa, ormai escono solo bimbi e cani dopo la polemica degli ultimi giorni. Vediamo adesso il secolo d'Italia. Manovra sì del Senato, sostegno a famiglie e lavoro, è il titolo dell'editoriale. E poi auguri di Meloni ai dipendenti, siamo funzionari dell'Italia, dice il Premier. Istat conferma, cresce la fiducia di consumatori e imprese. E poi bimba palestinese è nata sulla nave Vulcano, si chiamerà Italia. Con il secolo d'Italia termina la nostra rassegna stampa. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Tele Molise è come sempre in diretta alle 14 con il telegiornale. Grazie per averci seguito, buona giornata. Grazie per averci seguito, buona giornata. Grazie per averci seguito, buona giornata.